Va bene così? No, più basso? Ecco, grazie, grazie davvero. Il tema è troppo ampio perché uno pretenda di sviscerarlo, allora ho scelto di procedere per campioni, no? Dante e i classici, una cosa gigantesca. E prenderò le mosse da una figura del mondo romano che riveste un ruolo centrale nella visione politica di Dante, cioè Giulio Cesare. Quindi, basti ricordare che Arrigo VII, l'imperatore su cui Dante ha investito tante illusioni, potremmo dire, politiche e tante speranze, viene definito da Dante nell'Epistola VII, Cesaris et Augusti successor, nel quinto paragrafo. Per Dante, infatti, e questo è un punto che riprenderemo, è con Cesare che ha inizio la lunga catena di figure imperiali, dei detentori, cioè di quel potere legittimo, che è per l'appunto del Cesare. Ma partirei in realtà da un dettaglio, e cioè dalla velocissima ma incisiva descrizione fisica di Cesare, che si trova nell'ambito di quella rassegna devota dei grandi pagani, spiriti magni, posto da Dante all'interno del limbo, nel castello nobile, nel nobile castello, e celebre verso 123 del canto quarto, Cesare armato con gli occhi grifagni. Donde viene questo ritratto di Cesare? Si può osservare preliminarmente che l'unica fonte superstite che ci dia una descrizione fisica di Cesare e il capitolo 45 della vita svetoniana, Svetonio, De Vita, Cesaris, paragrafo 45, fornisce un ritratto completo fisico di Dante. E quindi si pone la questione se ci sia una dipendenza di quel verso, da quel ritratto svetoniano, e più in generale della conoscenza di Svetonio, cioè di un testo capitale come Svetonio, da parte di Dante. Fonte, Svetonio, notissima nel Medioevo occidentale, si può seguire praticamente in modo ininterrotto la presenza di Svetonio nella cultura occidentale, in Italia, a Roma, a Verona, in Francia, in Inghilterra, in Germania, un caso tra tutti, ma notissimo, quando Eginardo si mette a scrivere La vita di Carlo, ricopia pagine della vita di Augusto svetoniana. Quindi una fonte indiscutibile, potremmo dire, cerchiamo però un elemento preciso di connessione che ci autorizzi a pensarlo. Orbene, è proprio il dettaglio degli occhi che deve attrarre la nostra attenzione, perché nella delineazione dell'aspetto fisico di Cesare, Svetonio indica tra l'altro questi occhi che definisce Nigris Vegetisque Oculis. E la domanda è che vuol dire? Aggiungiamo che è l'unica fonte nella quale si parli degli occhi di Cesare. Piccola notazione marginale, per moltissimi versi benemerita enciclopedia dantesca, la voce Svetonio non è delle più felici, è anzi polarizzata a dimostrare che Dante non conosce Svetonio. Focalizzando la dimostrazione su un punto, che cioè gli occhi che Svetonio definisce neri, Nigri Vegetisque, sarebbero nella definizione dantesca Rossi, perché Grifagni, perché lo Sparviero ha occhi fiammeggianti, lo dice Brunetto Latini in un passo del Tresor. E allora c'è questa tesi che credo sia da mettere in discussione, Dante non conosce Svetonio. In realtà il nesso tra il passo svetoniano sugli occhi di Cesare e il verso celeberrimo 123 del Canto IV lo aveva indicato un commentatore dantesco ottocentesco, Niccolò Giosafatte Biagioli, nell'edizione che esce a Parigi nel 1818, esce a Milano nel 1820, e Biagioli già polemizzava contro Jean Guenet, Histoire littéraire d'Italie, il quale sosteneva aver Dante inventato questo dettaglio assente nelle fonti. Biagioli aveva anche sotto mano un repertorio di curiosa origine, il cosiddetto Estratto di Dante di Vittorio Alfieri. Alfieri si era dedicato alla lettura di Dante con passione e aveva notato in una sorta di quaderno di estratti i versi che lo colpivano per armonia, per l'espressione, per il pensiero o per la stravaganza. E questo verso 123 del Canto IV è tra quelli notati da Alfieri. Biagioli segnala tutti i versi che Alfieri ha notato e dice ha notato anche questo. e aggiunge Biagioli, di cui forse conviene leggere le parole esattamente come si presentano in quel commento, non soltanto addita la fonte latina, cioè Svetonio, ma addita anche il seguito post-dantesco di quella immagine. E lui scrive Con occhi grifagni, con occhi di Augel Grifagno o come dice l'Ariosto dell'Aquila Grifagna. Il boccaccio della fiammetta incoronata reina, dice, con due occhi in testa che parevano d'un falcon pellegrino. Il poeta vuol farci intendere che gli occhi lucidi e neri di Cesare erano larmi sue, poiché egli più volte rintuzzò col guardo e col piglio le sedizioni delle legioni. E degli occhi di Cesare, dice Svetonio, Nigris, Vegetisque e Oculis. Adunque non è questa, come parche creda il signor Jean Guenet, un'immaginazione del poeta. Nella voce molto ben fatta di Gino Funaioli, è latinista anche alla Sapienza di Roma dal 1940, voce su Svetonio nell'Enciclopedia, la Real Encyclopedia Paolo Ivissova, la voce del 31, Funaioli si accorge di questa nota di Biagioli e quindi scrive, alla fine del Medioevo, Dante preleva, entnimmt Dante, parentesi inferno 423, dazu Biagioli, quindi la nota di Biagioli gli sembra importante, aus einer losen und toten beschreibung sue tones mit genialem griff den Geierblick. Cioè, questo è un giudizio soggettivo, Dante con geniale slancio, con un colpo di genio, trasforma una immagine sciatta e morta, Einar losen und toten beschreibung di Svetonio, in una immagine efficacissima, quella appunto dello sguardo dello spardiero. E allude anche, con un breve riferimento, a una pagina del Cesare di Gundolf, che è un libro abbastanza indigesto, sia ben chiaro, ma non privo di ingegno, in cui Gundolf si accorge di questo nesso fra l'immagine svetoniana e il verso dantesco e naturalmente ci ricama moltissimo sopra, essendo un appassionato di Cesare oltre misura, insomma, oltre il giusto, potremmo dire. E giunge dunque opportuno chiedersi come fu inteso e che cosa voleva dire questo benedetto aggettivo grifagno. Giustamente Biagioli additava quel passo di Boccaccio, dove l'immagine è quella che abbiamo prima letto citando testualmente le sue parole, e però alle spalle di lui c'era una tradizione interpretativa, non voglio qui elencare i vari commenti danteschi a quel passo, ma il Buti, per esempio, guatatura rilucente spaventevole ad altrui. Io credo, e qui apro una piccola divagazione manzoniana che mi perdonerete, che nel novero dei commenti a questo verso 423 si debba inserire anche un passo, credo ben noto, e tante volte citato, del settimo capitolo dei Promessi Sposi, dove però l'immagine, come dicono le persone raffinate, è degradata, perché gli occhi grifagni vengono attribuiti ad un bravaccio subalterno del griso, quindi neanche al griso, che già è un personaggio discutibile, ma a un suo satellite. Il bravaccio posto a guardia dell'osteria, dove Renzo, Gervaso e Tonio si preparano tremebondi al matrimonio a sorpresa. Devono radunarsi lì, e però sulla porta c'è questo individuo. Piantato in sentinella, ingombrava mezzo il vano della porta, appoggiato con la schiena allo stipite, con le braccia incrociate sul petto, e guardava e riguardava a destra e a sinistra, facendo lampeggiare, ora il bianco, ora il nero, di due occhi grifagni. Per giunte il bravaccio, in questione, è armatissimo. E, dice Manzoni, seguitando, anche un fanciullo avrebbe pensato che doveva averne sotto la casacca di armi, quante ce ne poteva stare. Quindi, il Cesare del verso 123, oltre a essere dotato di occhi grifagni, è anche armato. Cesare armato con gli occhi grifagni. Il ricorso al rarissimo neologismo grifagni, riferito agli occhi di questo tale, ci fa, io credo, avvertiti del fatto che Manzoni addimira quel verso. Ed è palese, secondo me, il suo intento di prendersi gioco della monumentalizzazione del grande dittatore romano. Perché dico questo? Perché poco dopo, nello stesso capitolo, c'è un altro riferimento, potremmo dire ironico, relativo a Cesare. E cioè, quando, anche questo è un passo molto celebre, Lucia è sempre in attesa di questa terribile vicenda che andrà malissimo del matrimonio a sorpresa, viene messa sullo stesso piano di Bruto, dice Bruto nel Giulio Cesare di Shakespeare, atto secondo, scena prima, si tormenta perché l'attentato a Cesare lo fa soffrire, però lo deve fare per il suo ideale repubblicano, tra il compiere, e lui che parla in questo monologo notturno di Bruto, tra il compiere un'azione terribile ed il primo impulso a compierla, l'intervallo è come un sogno orribile, un incubo. Ora, questo pensiero, Manzoni lo prende e lo trasferisce a Lucia. Tra il primo pensiero di un'impresa terribile e l'esecuzione di essa, ha detto un barbaro non privo di ingegno, ironia antivolterriana potremmo dire perché è la definizione volterriana di Shakespeare, l'intervallo è un sogno pieno di fantasmi e di paure. Lucia era da molte ore nell'angoscia di un tale sogno, eccetera. Quindi c'è un'evidente analoga ironia. E potrei soggiungere, anche se mi rendo conto che stiamo troppo manzonando, ma il Fort Leben è fatto così, va su e giù nel tempo, potremmo dire che non è coerente, giustamente, ognuno ha il diritto di trasformare i propri pensieri, l'atteggiamento di Manzoni rispetto a questo inquietante personaggio che è Cesare, perché, lo dico in fretta, per non rubare poi tempo al resto dell'esposizione, pochi anni prima, nel 5 maggio, la descrizione che Manzoni dà della carriera fulminante di Bonaparte, che è segnata da due elementi, la velocità e il grande spazio geografico coperto dall'azione del personaggio, è palesemente modellata sulla descrizione, altrettanto focalizzata su velocità e spazio geografico, del Cesare di Giustiniano nel sesto del Paradiso. Solo che nel 5 maggio Manzoni è ancora convinto, e la cosa gli fa onore, della grandezza del personaggio, gli viene in mente Cesare, ma è ovvio, perché ha in testa il cesarismo come aspetto fondante della carriera di Bonaparte. Quando scrive Promessi Sposi, lui si è convinto che la storia non la fanno i grandi, i quali sono per lo più ridicoli o criminali o tutte e due le cose insieme, e allora il Cesare Dantesco del Limbo, armato con gli occhi grifagni, diventa il grottesco archetipo di un bravaccio armato fino ai denti che rotea minacciosamente gli occhi grifagni, piazzato come cariatide, anche questa è una caratteristica fortemente ironica, sulla porta di un'osteria di paese. Ma torniamo a Dante e al suo Svetonio. Credo sia chiaro che quell'immagine derivi dal capitolo 45 del De Vita Cesaris, però vorrei soggiungere qualcosa di più sulla centralità di Svetonio come fonte primaria. Ancora in alcuni manoscritti a noi giunti, in particolare quello di Amsterdam della Biblioteca Universitaria, i commentari cesariani de Bello Gallico sono tramandati come disvetonio e l'inscripzio è Incipit Liber Gai Cesaris Belli Gallici Iuliani De Narrazione Temporum Incipit Liber Suetonii Gallia Est Omnis Divisa eccetera. Ma già Sidonio Apollinare e Orosio considerano i commentari cesariani opera di Svetonio. E allora è interessante osservare che nel verso 61 del canto sesto del paradiso dove appunto c'è quel profilo straordinario della carriera politico-militare di Cesare Dante ha certamente sott'occhio il finale dell'ottavo commentario de Bello Gallico e il combaciante testo della vita svetoniana Poiché li uscì di Ravenna e saltò Rubicon. Ora l'ottavo commentario de Bello Gallico è mutilo alla fine finisce con una cosa notissima i latinisti si affannano giustamente su quel punto Contendit e finisce lì cioè manca il seguito si integra Contendit Ravennam perché si integra così perché Svetonio che ha chiaramente sotto mano i commentari cesariani e ricostruisce la vicenda riutilizza quasi le parole dei commentari e completa e dà la notizia appunto che Contendit Travennam prima di decidersi a varcare il Rubicone e l'operazione di mescolare i due testi cioè fine del commentario ottavo de Bello Gallico capitolo svetoniano sul passaggio del Rubicone l'aveva già fatta Petrarca nella nella vita di Cesare nelle vita Cesaris la pagina e 452 della vecchissima edizione Razzolini Petrarca scrive conventibusque per actis ut solebat ravennam venit svetonio conventibusque per actis ravenne substitit però l'operazione di stabilire la successione lascia Ravenna e varca il Rubicone è nel verso 61 del canto sesto del paradiso prima di Petrarca questo nesso Cesare commentario svetonio capitolo sul passaggio del Rubicone l'ha fatto Dante in quel verso fin qui ci siamo tenuti a un aspetto potremmo dire micrologico come dicono i nemici della filologia ma c'è un aspetto macroscopico che io ho lasciato in ombra ma che invece è giusto mettere in luce l'avevo accennato all'inizio perché dobbiamo ritenere che l'impostazione svetoniana sia presente a Dante ma perché svetonio è contro una tradizione consolidatasi prima e dopo di lui colui che ritiene che la successione dei Cesares incominci con Giulio Cesare e non con Augusto se voi scorrete le fonti che sicuramente nel mondo medievale tardo medievale sono a disposizione il breviario di Eutropio l'istoria ad versus paganos di Orosio il principato l'impero incomincia con Augusto ma anche per una ragione che Eutropio spiega ampiamente cioè Cesare non ha fatto a tempo ad essere princeps perché appena ha cominciato ad essere tale dice Eutropio nella fine del sesto libro del breviarium storie romane l'hanno ammazzato si fa nominare dittatore a vita e un mese dopo viene ucciso quindi non è con lui che comincia il principato il potere personale è con Augusto ciò non toglie che Svetonio scelga e la ragione è ben comprensibile di incominciare il devita cesarum con la vita di Giulio Cesare è mutile all'inizio e comincia ad un certo punto ma è evidente ci manca forse una prefazio nella quale Svetonio spiegava perché avesse fatto questo ma noi lo possiamo anche capire non è la durata del suo governo è il fenomeno che per Svetonio è importantissimo della adozione che si trasforma in successione che lo porta ad includere Cesare in questa galleria di principes nel momento in cui Augusto adotta Tiberio come figlio e Tiberio diventa il princeps che gli succede il meccanismo è il medesimo per cui Augusto a suo tempo Ottavio poi Ottaviano adottato come figlio diventa successore ecco perché per Svetonio che ha presente la successio da Traiano ad Adriano fra l'altro il meccanismo è il medesimo e dunque il cesarismo sotto forma di principato comincia con Giulio Cesare perché noi possiamo dire che per Dante quella è la concezione dell'impero non soltanto per la frase che ho ricordato in principio della lettera d'Arrigo VII successor cesarisset Augusti ma per una frase altrettanto nota e citata tante volte quando Virgilio appare per la prima volta nel primo canto dell'inferno e al verso 70 si autodefinisce da una sua breve autobiografia dice nacqui sub iulio allora perché dice questo che vuol dire nacqui sub iulio un uomo che nasce nel 70 avanti Cristo nasce sub iulio no nel senso che nel 70 Cesare è appena diventato tribunus militum è ancora in vigore la costituzione sillana non è stata ancora smantellata dal consolato congiunto di Pompeo e Crasso quindi non c'è un regno di Cesare sotto il quale Virgilio nasce si può dire che nacqui sub iulio se si dà all'intero arco della vita pubblica di Cesare il medesimo ruolo di regnante che ha poi Augusto e i suoi successori cioè quella espressione nacqui sub iulio che si legge forse magari un po' cursoriamente è l'indizio di una visione del Principato che collima con la visione svetoniana che si fonda sulla successione stabilita da Svetonio e anche il subito successivo ancor che fosse tardi la spiegazione che si dà presente a tutti noi è che essendo Cesare è stato assassinato nel 44 quando Virgilio che è nato nel 70 è ancora un giovanotto di belle speranze Cesare non ha fatto a tempo a venerare come doveva come meritava Virgilio cosa che invece è successa con Augusto il quale ha condotto un'abile politica culturale di cattura seduzione degli intellettuali ivi compreso Virgilio ma ha senso dire ancor che fosse cioè l'idea che Cesare avrebbe già instaurato una politica culturale analoga a quella di Augusto si sarebbe dunque interessato a Virgilio se avesse fatto a tempo Virgilio non ha fatto a tempo perché Cesare è morto prima quindi l'immagine ancor che fosse tardi rientra nell'idea che c'è un principato di Cesare che si sviluppa in un arco di tempo e che però nel caso di Virgilio non ha funzionato come invece poi sul medesimo Virgilio ha funzionato con Augusto e questa visione del principato che incomincia con Cesare è a mio modo di vedere un cardine della visione politica dantesca un altro aspetto collaterale connesso a questa forte concezione del destino imperiale che incomincia con Cesare e si sviluppa fino al tempo suo è nella questione nella polemica che sarebbe successo se Alessandro Magno si fosse rivolto a Occidente e qui ci interessa un passo del De Monarchia entra in Mallo Livio Livio si può discutere molto sull'uso che Dante ne ha fatto Gestorum Romanorum Scriba Egregius viene lui definito naturalmente non erra come sappiamo e buffo poi che in quel caso come è stato osservato come Livio scrive che non erra Dante si discosta alquanto da quello che Livio effettivamente scrive a proposito del bottino dopo la battaglia di Canne ma il passo che ci interessa invece è un altro tra l'altro Dante nel trattato sulla monarchia cita esplicitamente il primo rigo dei libri liviani del primo libro di Livio e lo individua laddove si esprime così a Troia capta sumit exordium monarchia 249 non è a rigore l'esordio no? facturusne opere prezium sim eccetera a percezione chiara del carattere distaccato del proemio liviano della prefazia liviana rispetto al primo libro e il primo libro effettivamente comincia con appena capta Troia Enea viene in Italia eccetera quindi c'è una citazione del primo rigo vero diciamo del racconto liviano e dunque merita attenzione il passo dal quale vorrei ora dedicarmi sul problema Alessandro Magno fra l'altro in questo caso Dante monarchia 288 si riferisce a Livio in modo puntuale ut ait Livius qual è il tema? la gara tra i vari popoli per conquistare il premio voluto da Dio consistente nella conquista dell'impero universale la gara vinta dal popolo romano naturalmente fermo restando che la monarchia universale è l'ordinamento necessario per tenere in ordine il genere umano la rassegna comincia con Nino re degli assiri il quale cum consorte tori semiramide per 90 anni ha cercato di ottenere l'impero del mondo e Dante sta parafrasando Orosio parola per parola Historia versus Paganos 1-4 che esattamente questo tema sviluppa gli imperi universali fino a quello romano in questo medesimo contesto si trova quel cenno a semiramide del quinto canto dell'inferno che libido felicitò in sua legge per torre il biasmo in che era condotta che è di peso la frase con cui Orosio scrive definisce un po' sgarbatamente semiramide e dice 90 anni perché sono i 50 anni di Nino e i 42 di semiramide dopodiché segue Vesoges re d'Egitto il quale sconvolse l'Asia da cima a fondo ut Orosius Memorat e siamo ancora nel capitolo 14 del primo libro di Orosio poi c'è Ciro il Grande poi Cerse al di là di tutti i costoro tocca ad Alessandro Macedone il quale prosegue Dante più di tutti gli altri si avvicinò a conquistare la Palma quindi è al di sopra di Nino Cerse eccetera è più vicino ai Romani che però sono i vincitori di questa gara tanto da proporsi l'obiettivo di sottomettere Roma e qui Dante presenta la vicenda in questo modo Alexander Rex Macedo Maxime Omnium Ad Palmam Monarchie Propincus Dum Per Legatos Ad Dedizionem Romanos Premoneret Apud Egiptum Ante Romanorum Responsionem Ut Livius Narrat In Medio Quasi Cursu Collapsus Est De Cuius Etziano Sepultura Lucano e c'è un passo di Lucano che è citato esattamente quindi Livio direbbe che cosa direbbe che Alessandro ha chiesto la dedizio da parte dei Romani li ha incitati per legatos ad dedizionem e mentre la risposta dei Romani sta arrivando lui muore perché c'è la providenza come è noto e quindi la cosa si risolve così Livio non dice questo cosa avrà in mente cioè cosa c'è dietro questa singolare citazione ma molto interessante come cercherò di mostrare c'è la famosa pagina l'escursus liviano del libro nono capitoli 17-19 in cui Livio si pone la domanda e se Alessandro si fosse mosso verso occidente che sarebbe successo risposta di Livio avrebbe perso perché noi avevamo Papirio Carbone nomina un paio di consoli romani che secondo lui avrebbero fatto profligato il grande Alessandro questo è ma naturalmente questa pagina di Livio studiatissima non nasce per caso è una replica e lui non fa il nome del bersaglio suo che è Timagine di Alessandria lo storico greco di lingua egiziano di nascita potremmo dire più detestato da Augusto Augusto lo caccia di casa come racconta Seneca nel De Clemenzia e lui trova rifugio presso Asinio Pollione Asinio Pollione lo ospita diventa un caso letterario Augusto si secca e va a trovare Asinio e gli dice una sola parola in greco terio trofeis tu stai allevando una belva Asinio imbarazzato dice ma se vuoi lo caccio di casa e Augusto risponde ma come vi ho appena riconciliati perfido il Prince e ti immagini per i Basileo nel suo trattato di storia per Basileis sosteneva che molto probabilmente Alessandro ove si fosse volto occidente avrebbe vinto e Roma avrebbe dovuto soccombere Livio dice quegli storici quali sono più favorevoli ai parti che ai romani osano pensare che Alessandro avrebbe vinto e chiaramente ce l'ha con di immagine la domanda che si pone Livio è cosa sarebbe accaduto sicum Alessandro Foret Bellatum ora c'è una voce nella dantesca di Guido Martellotti molto ben fatta su questo problema e che però approda a una tesi secondo me indimostrabile e forse superflua in ultima analisi che cioè in un testo per esempio di Orosio o di Lucano ci fosse una glossa sui margini a proposito della vicenda Alessandro e Roma in cui a torto veniva chiamato in causa Livio come fonte nei termini che Dante riferisce non mi convince cioè non ha senso secondo me questa soluzione del problema perché sposta la questione da Dante alle fonti di Dante questa fonte avrebbe compiuto lo stesso errore che noi stiamo cogliendo segnalando però il merito notevolissimo di quella voce è di mettere insieme una serie di fonti anche poco note nelle quali si avverte l'amplificazione di questa leggenda fonti medievali delle quali non è detto poi che Dante avesse conoscenza ecco ma quel che è sfuggito in realtà e che conviene mettere in luce è che Orosio sicuramente sott'occhio di Dante l'abbiamo visto perché l'escursus comincia con Nino Sers eccetera e ricopia Dante in quel caso Verbatim quello che legge in Orosio a sua volta ha alle spalle Giustino Giustino sappiamo chi sia in sostanza quest'uomo perché ha fatto un'opera meritoria ma non ha parlato di se stesso ha epitomato ha riassunto l'opera importantissima di uno storico Pompeo Trogo le cui storie filippice erano in sostanza molto vicine all'impostazione di Timagine si chiamavano filippice perché davano al regno di Macedonia la centralità partivano da molto lontano arrivavano al tempo di Augusto e di Tiberio ma il focus era la Macedonia cioè Timagine è probabilmente fonte di Trogo Trogo è riassunto da Giustino Giustino ci è arrivato Trogono e in Giustino noi troviamo una notizia in più tutto l'Occidente era terrorizzato alla notizia delle grandi vittorie di Alessandro e una serie di ambascerie partirono verso Babilonia che confusamente si viene messa in Egitto ma questo è secondario per atto di sottomissione o comunque di tentativo di intesa con questo grande conquistatore minaccioso che è Alessandro quindi Giustino è molto vicino a quel che Dante dice anche se Giustino non parla della richiesta di sottomissione di dedizio da parte di Alessandro nei confronti di Roma però non dimentichiamoci che Giustino sta riassumendo quindi Trogo diceva certamente molto di più in questa selva vi sto annoiando ma riacciuffiamo subito il filo c'è una fonte greca in realtà che non è molto frequentata dagli studiosi di testi latini così come a sua volta coloro che l'hanno egregiamente commentata non si sono occupati delle fonti latine questa divisione dei compiti tra grecisti e latinisti è una iattura ma comunque un fatto pazienza Frenkel diceva chi è un grecista uno che si è dimenticato il latino e viceversa ora questa fonte è Memnone di Eraclea un signore sconosciuto e più il quale non ci sarebbe noto se il patriarca Fozio benemerito eretico scismatico tutto il male che possiamo non avesse riassunto la sua opera amplissima in uno dei capitoli della biblioteca cos'era questa opera di Memnone di Eraclea era un grande omaggio a metridate maggior nemico di Roma del mondo ellenistico almeno fino a Cleopatra e in quest'opera che noi leggiamo in un riassunto fatto da Fozio c'è la precisa notizia che Alessandro ha ingiunto ai Romani di sottomettersi con una formulazione precisa o siete forti e quindi venite a combattermi o non siete forti e allora sottomettetevi e i Romani hanno mandato a lui delle ambascerie ora è chiaro che Dante non ha letto né l'opera di Memnone di Eraclea e tantomeno la biblioteca di Fozio però la tradizione che Memnone conosceva e che noi leggiamo purtroppo in un riassunto completa l'informazione di Giustino secondo cui ci sono state da parte di tutto l'Occidente ambascerie ad Alessandro che offrivano in sostanza sottomissione e allora che cosa è giusto pensare rispetto a quel passo del trattato sulla monarchia Orosio e Giustino certamente sono presenti alla mente di Dante e basta Orosio in certo senso perché a sua volta Orosio usa Giustino e che cosa c'è scritto? C'è scritto che dall'Occidente sono partite delle ambascerie Ivi compresa l'Italia Mem non ne parlava di Roma allora qual è l'operazione che Dante ha compiuto rispetto a questo episodio? Se ci sono ambascerie dettate dalla paura nei confronti di Alessandro vuol dire che Alessandro ha segnalato la propria volontà di dominio anche verso l'Occidente quindi è per così dire una costruzione a partire dalle fonti che lui conosce in particolare Orosio e Giustino che viene messa sotto legida di Livio perché l'escursus liviano sulla certezza che Roma avrebbe resistito anche ad Alessandro nobilita l'episodio rinviando al più autorevole storico di Roma non ci dimentichiamo che Tacito non è ancora stato scoperto quindi Livio è lo storico romano per eccellenza e questa è un'operazione che ha senso non soltanto per noi che scandagliamo l'uso delle fonti latine che Dante ha fatto ma anche perché in tale operazione ricorre ancora una volta la centralità vincente dell'impero romano rispetto a tutti gli altri imperi universali o tentativi di imperi universali ora io direi che la questione dell'impero come focus del pensiero politico dantesco che gli ha causato anche la messa all'indice del trattato sulla monarchia va considerata e lo vorrei fare in quest'ultima parte della mia trattazione da un punto di vista un pochino discosto diciamo dalla consueta riflessione su questo tema e cioè come ho scritto qualche volta l'inconciliabilità tra i due eroi della vicenda romana repubblicana e cioè il suicida di Utica Catone per un verso e il suo avversario mortale e alla fine vincitore e cioè Cesare l'inconciliabilità tra queste due figure che sono alla base di un testo che Dante conosce benissimo cioè Lucano come si risolve dentro il pensiero di Dante il suo pensiero politico e come trova spazio nella resa poetica originalissima di Catone tirato fuori dal luogo e gli spetterebbe il nobile castello insieme a tutti gli altri e messo a guardia del purgatorio si spiega come ho cercato prima di dire con la nozione di libertà il verso più noto e secondo me non sufficientemente apprezzato nonostante la deferenza con cui viene sempre ricordato libertà va cercando è Virgilio che dice a Catone di Dante la cui presenza disturba Catone guardiano che egli Dante libertà va cercando e a quel punto il richiamo al suicidio libertario di Catone è quasi d'obbligo ma è la nozione di libertà che Dante mette al centro di tutta la sua opera e della commedia in particolare che unifica i due personaggi inconciliabili perché è la libertà come coscienza della necessità quindi l'esatto contrario dell'idea banale di libertà come esplosione dell'individualità senza freni e senza controlli e quindi io credo che per tirare un bilancio potremmo dire di queste sparse note la spiegazione sempre provvisoria del come mai Dante si è concesso la libertà di mettere dentro il limbo isolati in un castello nobile gli spiriti magni pagani in sostanza in una posizione di assoluta deferenza essi sono costretti la pena alla quale sono costretti è desiderare la vera fede senza poterla mai attingere quindi una sofferenza intellettuale magari raffinatissima ma è a mio modo di vedere non soltanto una escogitazione straordinaria ma è una nota autobiografica Dante si identifica con quei grandi spiriti che stanno nel nobile castello e quindi io credo che nel suo rapporto con i classici non ci sia soltanto un nutrimento c'è anche un'insidia i classici non solo lo sorreggono sono materia della sua opera ma insidiano la sua fede grazie 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 grazie